Nasce una nuova rete. WeWin. Io vinco, tu vinci. Cittadini, comunità, enti locali, terzo settore e imprese si uniscono per contrastare disoccupazione ed esclusione sociale. Il progetto WeWin finanzia 107 tiracini extracurriculari di 6 mesi. Affianca nella definizione del tuo piano di ricerca del lavoro attua misure di sostegno per conciliare la tua vita lavorativa a quella familiare. Il progetto si rivolge a disoccupati con situazioni di disagio residenti in Abruzzo. I candidati selezionati potranno usufruire di un percorso di orientamento al lavoro e di formazione necessari per essere inseriti poi in un progetto di inclusione lavorativa. Sperimenta e consolida le tue abilità. Puoi essere una risorsa per le imprese e per te stesso. Hai tempo fino al 19 luglio per presentare la tua domanda. Vai sul sito unionemontanadeicomunidelsangro.it console.com